Buongiorno, Tato si smarrisce a Ferrara. Tato è un micio, il micio del signor Aldo, che non ha figli, ha una casa tutta vuota e prende questo micio, però lo tiene, lo coccola con tanto amore che non lo fa quasi mai uscire di casa e se lo fa uscire di casa lo fa uscire nel giardino con un guinzaglio. Ma accade una volta che il signor Aldo uscì di casa per ritirare la posta. Tato era ciambellato sul suo letto. Aspettami qui che poi facciamo colazione, gli disse il signor Aldo. Quando il signor Aldo rientrò in casa con una busta in mano, cucinò due uova al tegamino e ritagliò un tuorlo per cui Tato andava matto. Tato, vieni in cucina, è pronta la tua colazione. Tato, vieni che si raffredda. Il signor Aldo non iniziava mai a mangiare se non con lui. E va bene, stamattina vuoi farti prendere in braccio. Raggiunse la stanza e la cuccia era vuota. Ti sei nascosto dietro la porta? Ma il signor Aldo non riuscì a trovare Tato. Tato era uscita di casa e si smarrisce per la città di Ferrara. Se volete sapere come va a finire, la mia storia è su Amazon Chiara Taglioli. Grazie.